Uomini e donne, Armando smascherato da Pamela, parlava bene di Maria De Filippi. Armando incarnato continua ad essere al centro dell'attenzione e delle polemiche dopo le pesanti accuse di Aurora a uomini e donne. Il cavaliere napoletano è tra i volti più chiacchierati del momento, dopo che la dama della trasmissione di Maria De Filippi ha svelato che Armando avrebbe alle spalle un manager che si starebbe interessando del suo percorso professionale. Accuse che hanno scatenato il putiferio e, intanto, a rincarare la dose contro Armando ci ha pensato anche Pamela Barretta, ex dama del trono Over, che ha conosciuto bene il cavaliere napoletano. Nel dettaglio, Aurora sostiene che Armando avrebbe sostenuto dei provini per partecipare all'isola dei famosi e al grande fratello Vip. Accuse che il cavaliere ha prontamente respinto, chiarendo che non avrebbe mai mancato di rispetto a Maria De Filippi e alla redazione del suo programma del pomeriggio con un colpo basso del genere. Parole di stima a quelle che Armando ha speso nei confronti della conduttrice del talk show anche se, stando a quanto rivelato dall'ex dama Pamela, non sarebbe stato sempre carino nei confronti della De Filippi. Pamela, dopo il vespaio e il chiacchiericcio sul conto di Armando, ha scelto di intervenire sui social e lo ha fatto smascherando il cavaliere del trono over. Mai avere fretta, qualcuno ha la memoria corta o mente. No perché proprio bene non ne parlava, di Maria De Filippi. Ha scritto Pamela sui social lanciando così una pesante stoccata nei confronti del cavaliere napoletano. E poi ancora, Pamela ha lasciato intendere che potrebbe lanciare una bomba mediatica in grado di mettere seriamente in difficoltà Armando e il suo percorso in trasmissione. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime registrazioni di uomini e donne, Armando continua a difendersi dai vari attacchi e dalle accuse social. In queste ore, infatti, il protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi ha postato un nuovo messaggio su Instagram in cui sostiene di doversi difendere da persone che stanno cercando in tutti i modi di infangarlo e quindi metterlo in cattiva luce. Armando, quindi, continua a sostenere di essere completamente estraneo ai fatti e alle accuse che gli sono state mosse in trasmissione da Aurorama. A questo punto, bisognerà scoprire e capire se la dama porterà alla luce le prove che dice di avere sul conto del celebre cavaliere del trono Ober. Grazie a tutti. Grazie.